Lei è una ragazza di 13 anni di Torino, ha confessato alla sua insegnante che il nonno abusava di lei sin da quando era piccola. La professoressa ne ha parlato con la preside, la quale ha pensato bene di non fare nulla, non ha mosso un dito. Ora è sotto processo però messa a denuncia.